Stiamo veramente dando un grande aiuto, non solo agli imprenditori, ai commercianti, anche allo Stato, perché io sono testimone per aver fatto il magistrato tanti anni, oggi il sindaco di una città così in prima linea, che forze di polizia e magistratura fanno un lavoro importantissimo nel nostro Paese, ma che talvolta, certe volte spesso, non hanno mezzi e risorse adeguate, talvolta, certe volte anche non di rado, accadono delle cose che francamente sono inaccettabili, il numero che ho visto ancora così alto di sentenze passate all'ingiudicato, in cui quindi tra i colpevoli in via definitiva ci saranno anche estorsori, rapinatori, usurai, circolano liberamente perché lo Stato non è in grado di metterli nelle patrie galerie, cioè questo è il tema della sicurezza di cui bisogna parlare, questa città lo può fare, questa città lo può fare perché va a testa alta, perché è la prima città in Italia per crescita culturale, la cultura è la prima arma di riscatto contro le mafie, questa città lo può fare perché è amministrato da un sindaco che non si è fatto piegare dalla mafia di Stato e dalle corruzioni, questa città vuole essere in prima linea contro dei fenomeni che rischiano sennò di diventare abitudinari, come quello dell'usura, del racket, dell'istruzione, non deve essere normale che una persona spari dei colpi di proiettile a piazza Trieste e Trento contro un bar, non può passare come normale che mette un petardo in una pizzeria del centro storico o una bomba carta in un negozio di un altro quartiere della periferia della nostra città, Napoli si è stufata, si è stancata e perciò chiede a testa alta ai governanti di turno di non fare più le passerelle della nostra città e quando si dice che si rinforzano gli organici noi pensiamo che se lo dice un ministro è una parola seria e la parola seria va mantenuta, se dopo sei mesi le parole serie non vengono mantenute diventa una passerella di Stato come tante ne abbiamo viste, ahimè, e quante ne ho viste con i miei occhi, sia quando facevo il magistrato e adesso che faccio il sindaco. Sindaco, lei diceva che c'è una nuova percezione in città, quella della sicurezza, lei che fa il sindaco di strada e incontra molta gente. Ma soprattutto dei turisti, in napoletano c'è ancora una percezione di insicurezza ed è per questo che, non l'ho detto prima, lo dico adesso, la domanda che maggiormente mi viene fatta oggi dai napoletani non è lo stadio, che era fino a poco tempo fa la domanda più frequente come statistica, è la sicurezza. Quindi vuol dire che è un tema dello Stato, quindi da un lato noi ci potremmo ritenere soddisfatti perché se la domanda ricorrente al sindaco, la domanda più fatta è una competenza dello Stato, vuol dire che noi anche senza un euro abbiamo fatto tanto per questa città. Ma mi riferisco ai turisti, la cosa che mi colpisce molto, turisti soprattutto del centro nord, dicono in questi mesi, e non è una cosa solo degli ultimi giorni, che Napoli la trovano facendo il paragone con le loro città particolarmente sicuro e reattiva. Quindi io credo che anche questo è un merito forte dei napoletani, è merito di una città che ha scelto, è merito anche delle forze di polizia, chiaramente, della magistratura, come dicevo prima, che spesso con risorse non sempre all'altezza e adeguate fanno un lavoro egregio e a cui va la mia profonda gratitudine.